È mezzogiorno in punto, bentornati su Dissapore. Salutiamo anche gli spettatori di Lega Nerd che ci stanno seguendo. Io sono la direttrice di Dissapore, Chiara Cavalleris, e oggi abbiamo con noi il critico mascherato del Corriere della Sera, l'uomo più temuto dai critici gastronomici, più temuto dai critici che dai ristoratori. Ogni tanto ha una bella faccia tosta, ma non conosciamo il suo volto ed è sicuramente l'uomo più misterioso della gastronomia italiana. Valerio Massimo, vi sentite. Buongiorno, ciao. Ciao Valerio, bentrovato. Come stai? Bene, bene, grazie, tutto bene. Tanto ormai è risolto tutto, mi pare che i vaccini non ci sono più problemi. Siamo tutti felici. Tutto benissimo, tutto benissimo. Ma allora, innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito e benvenuto in questo festival molto pop, da uomo veramente molto poco pop. Ti ho voluto proprio per questo, perché sei un po' una provocazione sempre. Vabbè, grazie. Sì, infatti io non mi sento pop, non ho ben capito cosa significhi pop oggi. l'ho chiesto a te e ad altri esperti del settore pop, ma una definizione non l'ho tratta alla fine. Comunque sì, certo, io lo so che devi essere pop. Anche perché questo, come osservavi, è un po' il festival, la cosa più nerd che si è mai autodefinita pop. Quindi c'è un po' di tutto, no? Quindi in realtà è un po' difficile da definire. Diciamo che io stavo, ho letto, ho letto il tuo libro, che è uscito qualche mese fa, se non ricordo male. Giusto. Scrivere di gusto. E in realtà il pop c'entra moltissimo, perché nello scrivere questo manuale che hai scritto con i tuoi allievi della scuola di scrivere di gusto, la scuola della critica gastronomica etica, sostanzialmente si vanno delineando molti tratti tipici, molto popolari, che possiamo definire ormai di massa all'interno della critica gastronomica, che possiamo definire pop, secondo me. E io vorrei partire un po' da questo, cioè da quello che oggi, dire oggi sembra un po' strano, perché i ristoranti sono chiusi, perché abbiamo passato un anno e mezzo, un anno finora, pardon, molto particolare per la ristorazione, però la critica gastronomica in realtà non si è mai fermata a modo suo, soprattutto in alcune sue caratteristiche peculiari. e vorrei chiedere a te quali sono le caratteristiche più pop della critica gastronomica odierna. Ma, allora, le caratteristiche più pop è difficile stabilirlo, perché appunto non ho una condizione perfetta del significato di questa, però tu mi chiedevi, forse mi viene da pensare, una classifica delle cinque cose più pop della critica gastronomica? Mi viene questa idea. Assolutamente sì, facciamo una cosa alla dissapore. Ecco, allora, le ho segnate, casualmente le avevo segnate. è una specie di classifica dal quinto posto al... Fantastico. ...al primo. Mi pare di capire, però correggimi se sbaglio, che il pop è diventato una specie di colesterolo, nel senso che c'è quello buono e quello cattivo, insomma. È così? Ci sono cose positive ed altre meno che appartengono, che rientrano sotto questo grande ombrello. Allora, qui, tra quelle che ti elencherò, ce ne saranno alcune positive, altre assai meno, anche perché poi, quando si è corrivi a un certo comportamento, anche se il comportamento parte con buone intenzioni, poi arriva di solito un po' sfiancato. Allora, al quinto posto, io metterei questo dualismo, che però ti entra, insomma, nella stessa sfera intellettuale, se così vogliamo chiamarla con un eufemismo, cioè l'intervista agli chef in saio, cioè quelli in saio francescano, quelli che dicono basta col divismo, dobbiamo essere più attenti e appunto popolari, dobbiamo fare più riferimento alla tradizione, non dobbiamo inventarci cose troppo cervellotiche e mentre fanno questo, però ovviamente emettono la loro aura di divismo. che contraddice tutto quello che stanno dicendo. Ne ho letta una o due giorni fa, così. Esatto, di Réveillet, non mi ricordo il cognome francese. Réveillet, Philippe Réveillet. Per contro, nella stessa classica, nella stessa posizione del podio, metterei le interviste agli chef, che invece sono più cattedratici e parlano di rinascimento, noi siamo botteghe del rinascimento, siamo come quelli, insegniamo ai giovani. Di solito vengono dette, con questa prosopopea fintamente lirica, e spesso, non sempre, chi fa riferimento a questo rinascimento, nascostamente, si autodenuncia, perché come nel rinascimento, i lavoratori della bottega non vengono pagati con contratti regolari. Può capitare, insomma, che chi fa riferimento a questa epoca si riferisca anche ai suoi debiti. E questa è la quinta posizione. Quarta posizione. Le frattaglie delle trattorie moderne. Ora, questa è ambivalente, si può leggere sia in senso positivo che in senso negativo, perché bene che abbiano scoperto tagli antichi e quindi però dimenticati e ormai rivisitati come nuovi, però hanno francamente rotto le scatole con queste frattaglie. Sembra che nessun nuovo chef, giovane chef tatuato, possa fare a meno di una serie di piatti con frattaglie nel loro menu e alcune anche sanguinolente, l'occhio, insomma, pezzi che forse sarebbe meglio dosare con maggior misura. Via. Quarta posizione, no, terza posizione. Le esibizioni degli omaggi gentili in delivery, di solito, dei ristoranti. Questo lo fanno i nostri colleghi e anche qualcuno che sta lì, sul confine tra influencer e informazione, pubblicano su Instagram e su altri social, tutti i regalini che i ristoranti gli hanno fatto, quindi cose sontuose anche, dolci e cose salate, pranzi interi, cene di gala. Questa è una marchetta, detto francamente, però va molto di moda e viene accolta dai follower di questi personaggi con gridolini di entusiasmo. Questo io non lo capisco, dovrebbero dire, ma c'è il trono e tu non dovresti ricevere nessun regalo, ma invece no. Secondo posto, l'effetto wow, non tanto per il termine in sé, che trovo disdicevole, purtroppo l'ho sentito proprio ieri, detto da Paolo Alberto Schieppati, che è un giornalista serio, ha una certa età, e anche lui dica effetto wow, mi fa un po' cadere le braccia. però, insomma, per non dire un altro termine, però, insomma, l'effetto wow cosa significa? Che viene accolto tutto come fosse un miracolo in terra, qualunque ristorante è straordinario, qualunque pietanza è meravigliosa, qualunque locale innovativo, non è vero quasi mai, però si fomenta alla leggenda di una ristorazione che ha sempre nuove idee e ha sempre, c'entra sempre il bersaglio, mentre così non è quasi mai, quindi, insomma, il buonismo, ma è più che un buonismo, l'entusiasmo a tutti i costi, l'entusiasmo per partito preso, per scelta ideologica. Primo, beh, allora, primo però devo mettere una cosa positiva, cioè la riscossa delle donne in cucina, fino a ieri o sto stamattina, cioè fino a pochissimo tempo fa, gli sceferano solo uomini, adesso si incomincia a parlare di donne e questo è un aspetto che comunque confina anche con la moda, perché purtroppo i giornali non prescindono mai dal numero di click che riescono a fare, però in questo sbagliano, perché in realtà la notizia dovrebbe guidarci e non il numero di l'ascolto, insomma, e non la facilità con cui catturiamo i nostri lettori, ma insomma, la riscossa delle donne in cucina, il fatto che ci siano delle donne chef, e non tanto per un fatto puramente di genere, ma perché le donne chef cucinano in maniera diversa rispetto agli uomini, questo credo che sia un dato assodato, hanno più fantasia, più coraggio di mettere nelle loro preparazioni la loro personalità, sono meno copiste e sono più personali, quindi la riscossa delle donne in cucina è al primo posto, mi sono tirato addosso il cartello, ma è lei perché non ci vedo. Ok, ok. Allora, tu hai parlato di, in particolare, di regalie delivery, no? Che è un tema che chiaramente non è affrontato nel vostro manuale della critica gastronomica, perché è un tema recente, in realtà è un po' la traslitterazione pandemica della cena offerta al ristorante, sostanzialmente. Ecco, diciamo che io in questo anno di pandemia ho letto moltissimi articoli e non ho mai scritto uno sul futuro della critica gastronomica italiana, no? Perché sinceramente io non lo so che fine farà la critica gastronomica italiana e non ho molte opinioni in merito, se devo essere proprio sincera, ma mentre vediamo i ristoranti chiudere e la critica, comunque il giornalismo, la narrativa gastronomica continuare a fare il proprio lavoro seguendo esattamente queste queste caratteristiche un po' in parte quelle che hai detto, in parte i cliché della critica gastronomica, a me sembra che in realtà non cambierà assolutamente nulla. Io non so se tu abbia un'opinione in merito, però io credo che non cambierà nulla, anzi che alcune cose a cui tu fai il riferimento come l'entusiasmo per partito preso cresceranno perché giustificate da una situazione difficile. Sono perfettamente d'accordo con quanto hai detto, non cambia nulla perché non cambiano non cambia la mentalità degli editori e forse prima ancora che degli editori dei finanziatori, cioè degli sponsor delle aziende che versano soldi per far sopravvivere l'informazione. Sono le aziende per prime che chiedono di far passare pubblicità su Rettizia sulle testate del web e della carta e quasi sempre molto spesso vengono assecondate dagli editori poi dai giornalisti e infine dall'ultima ruota del carro che sono i collaboratori esterni che vengono pagati due lire e quindi non sono protetti diciamo che la loro virginità la loro purezza non viene protetta da chi li paga con un congruo compenso e quindi è una catena che non potrà che aggravare la sua deriva nel dopo virus se finalmente ci sarà perché saremo tutti un po' più poveri tutti un po' più affamati un po' più crudeli portati all'individualismo quindi la critica gastronomica non sarà immune da questo virus sociale chiamiamolo e continuerà a fare quello che stava facendo ma peggio di prima sì io credo proprio che influirà anche una certa dose di corporativismo sostanzialmente cioè se prima della pandemia quantomeno eravamo di fronte a una enorme quantità di ristoranti di cui parlare bene o male in base alla nostra coscienza adesso la recensione positiva in parte a priori e in parte perché bisogna farlo perché la cena offerta perché parlarne male non è pop almeno secondo me non è per niente pop e poi magari in qualche in qualche caso può anche funzionare però è una cosa che chiaramente non piace ai ristoratori ma qualche volta noto non piace neanche ai lettori che forse non apprezzano quel tipo di servizio e allora sarà questa situazione si aggraverà sempre di più perché di fatto non sarà bello fare una una critica all'interno di un settore che è che sarà in grave crisi e lo sarà più di altri e proprio per questo io ti vorrei chiedere perché avrà senso comunque io lo credo fortemente fare anche le critiche negative fare anche le recensioni negative perché il lettore va il lettore lo spettatore secondo degli ambiti in cui ci muoviamo va informato semplicemente non vanno raccontate bugie di balle ne abbiamo anche sentite troppe pure in altri campi va detta la verità tutta la verità nient'altro che la verità adesso il motto invece dei nostri colleghi in linea di massima saldo eccezioni è dire la verità tutta la verità tutt'altro che la verità quindi è il contrario noi dobbiamo ripristinare le buone regole dell'informazione e quindi non omettere o non addolcire le verità che sono meno gradevoli dire che un ristorante ha dei difetti non parlo di strancature perché quello è un falso problema però segnalare i difetti in un ristorante significa fare un servizio utile per il lettore e a questo proposito vorrei dire che anche la cattiva educazione che noi abbiamo dato a chi ci legge raccontando tutto come se fosse un paradiso ha avuto presa soprattutto su una fascia anagrafica che è quella diciamo che sta al di sotto dei 35 anni perché in realtà i lettori del Corriere della Sera un giornale per il quale scrivo apprezzano la mia schiettezza anche un po' rude perché ravvisano la qualità più importante di un critico gastronomico non gastronomico che è l'amore per la verità e la lealtà nei confronti di chi ci legge quindi se ci sono tanti che si aspettano soltanto di sentire cose meravigliose perché anche magari per un meccanismo consolatorio per semplice superficialità però c'è un bacino di utenza molto più grande che ancora non ci legge perché non ha tanta fede nei critici gastronomici ma in questo mondo del food un po' strampalato che vuole sapere cosa pensiamo realmente di quel locale di cui stiamo parlando non una verità edulcorata ma la verità nostra seppur rifiltrata dal nostro background della nostra cultura dei nostri gusti insomma c'è un un passaggio all'interno del tuo libro che in realtà rientra in un'intervista che hai fatto a Raspelli e praticamente c'è scritto Raspelli parla dei suoi inizi da critico gastronomico e dice Walter Tobagi prima di essere assassinato mi definì in un biglietto l'unico giornalista di gastronomia democratico e fa riferimento al momento in cui lui aveva aveva iniziato la sua rubrica settimanale su cui poneva il faccino nero che era sostanzialmente una rubrica di stroncature possiamo definirla così e quindi parla di giornalismo democratico secondo me è quello che definisce meglio la necessità anche di di essere critici cioè è una cosa democratica perché innanzitutto parli per i lettori che è quello che dovremmo fare tutti scrivere nell'interesse dei lettori poi magari sbagliando però l'interesse primario dovrebbe essere quello e io ci trovo qualcosa di estremamente non dico classista ma estremamente poco democratico nel parlare sempre solo per i ristoranti e sempre solo per un certo tipo di pubblico no credo no sono perfettamente d'accordo era democratico perché non guardava in faccia nessuno e diceva appunto riportava la sua verità perché non erano solo stroncature c'era anche il faccino sorridente quindi quelle di Raspelli voglio dire però era diventato famoso come diceva anche l'editore stesso di Raspelli tu diventerai famoso per il faccino nero certo perché la stroncatura è un genere letterario che fa molto più ridere di quell'altro anche le recensioni che ho scritto io in termini negativi sono quelle che hanno avuto più successo in realtà perché fa più ridere vedere uno che scivola sulla buccia di banana che vedere uno che cammina tranquillamente forse è anche più divertente da scrivere in mezzo a tante recensioni è anche un po' più divertente da scrivere però ecco non che uno la debba cercare per forza ci mancherebbe però ha un non so che e secondo me è tristemente è sempre meno popolare quella cosa lì perché forse la mia generazione o comunque la generazione quantomeno di chi segue di più legge di più sul web che sulla carta stampata di gastronomia è un po' figlia dello storytelling cioè magari noi crediamo di essere noi mi ci metto dentro perché è la mia generazione ma anche chi ha qualche anno in più secondo me crediamo di essere più smart più sgamati però poi in realtà noi siamo figli dell'epoca dello storytelling e raspelli probabilmente i raspelli dei tempi d'oro non l'abbiamo mai letto e in realtà siamo cresciuti con appunto lo ripeto con lo storytelling che è una cosa carina se sei un'azienda se sei un comunicatore aziendale ma un po' come dire dovrebbe non avere caratteristiche particolarmente positive nel caso del giornalismo gastronomico no certo il problema però adesso dirò una cosa che tu conosci a memoria ma che gli amici in ascolto come si diceva una volta probabilmente ignorano cioè d'accordo è la generazione dello storytelling ma cosa succede in pratica dietro le quinte di queste recensioni ovviamente sto generalizzando c'è chi si salva però insomma sono pochi e il fatto è che tu parlavi di corporativismo e in effetti è un corporativismo di correità chiamiamola cioè nel senso che tutti seguono la strada sbagliata ma lo fanno in compagnia e sono tutti così autogiustificati ma cosa succede succede che i giornali pagano pochissimo i loro collaboratori a volte niente sto parlando di giornali anche web non di sapore invece so che da questo punto di vista siete delle rarità ma nel complesso anche i giornali nazionali pagano non so un articolo 8 euro 50 euro cioè pochissimo molto di meno di quello che un giornalista spenderebbe andando recandosi nel ristorante in incognito e come faccio io pagando il conto come un cliente qualsiasi quindi cosa succede che si alimenta un un'informazione che è sostenuta dagli sponsor principalmente e dagli ufficio stampa i quelli che sono i professionisti o dilettanti in attesa di diventare professionisti che sono incaricati di giudicare i ristoranti in realtà lo fanno andando agli inviti rispondendo agli inviti degli uffici stampa i quali uffici stampa chiedono in cambio qualche cosa cioè chiedono in cambio un articolo e che sia positivo cosa succede se tu non scrivi un articolo positivo che l'ufficio stampa non ti chiamerà più alla al vernissage del tal ristorante ti escluderà dal suo circolo di amici e quindi anche dalle informazioni che questo circolo contiene quindi devi andare nel ristorante parlarne bene il caporedattore è contento di avere un pezzo allegro e felice da mettere in pagina probabilmente o in molti casi c'è di mezzo o di traverso anche uno sponsor che può essere il tal forno le tali farine o qualcos'altro che ha a che fare con il ristorante di cui si parla sono tutti contenti questo ovviamente è un equilibrio molto precario che si basa su una menzogna reiterata che è sostenuta da interessi personali che niente hanno che a vedere con il giornalismo e con l'informazione quindi qua vince una cosa che non è l'informazione ma è una specie di marchetta collettiva che possiamo chiamare anche storytelling ma in realtà molti dei pezzi che leggiamo non sono differenti dai comunicati stampa degli uffici stampa sono ugualmente inutili e ugualmente portatori non sani di valle sì mi ritrovo molto mi ritrovo molto in quello che dici diciamo che tu parli sostanzialmente del non professionismo di chi di chi scrive e dall'altra parte di chi di come molti giornalisti gastronomici facciano lavorino nella gastronomia attraverso altri quelli che sono altri mestieri che sia il distributore di vini che sia il PR cioè ci sono molte persone che fanno da ufficio stampa e poi fanno anche le recensioni o comunque fanno critica gastronomica e questo è il grande problema però quando dici che dall'altra parte ci sono i totali non professionisti in realtà mi ci ritrovo a metà perché credo siano pochissime attualmente le persone in Italia che vivono solo scrivendo di cibo e scrivendo come giornalisti senza conflitti di interessi cioè per esempio io rientro in questa categoria rarissima però io sono un caporedattore cioè io per forza faccio solo questo mestiere cioè non avrei il tempo di fare altro però mi rendo conto che sia molto difficile essere in questa situazione qua è sicuro che è molto difficile appunto dicevo il problema è la precarietà nella quale si trovano i lavoratori e anche tra noi i professionisti i pochi che si potrebbero mantenere senza marchette salvo te e poche altre eccezioni fanno comunque le marchette perché a quel punto ormai è diventato una sorta di alla destra del lavoro di giornalista del food cioè la marchetta è connaturata nel nostro lavoro basta sfogliare i giornali di settore sono pieni di marchette ma anche i giornali non di settore lo sono quindi è un problema che non riguarda soltanto diciamo il giornalismo non militante i critici paradilettanti perché poi sono un'enormità ormai sono appunto quasi tutti la grande maggioranza è un problema che riguarda l'editoria in generale su tutti i settori e particolarmente su quello del cibo perché è quello che ha coltivato tanto per gioventù perché la critica gastronomica esiste da pochissimo o perlomeno esiste il ruolo perché poi la funzione non la vediamo messa in pratica quasi da nessuno è comunque nato da poco poi è quello è anche il terreno sul quale tutti credono di potersi muovere con disinvoltura perché tutti mangiamo tutti cuciniamo e quindi tutti possiamo parlare di cibo per altre materie occorre una preparazione più specifica viene riconosciuta e richiesta una preparazione più specifica non ci si inventa critici letterari dal giornale alla notte invece nel nostro mestiere uno entra e comincia a scrivere subito recensioni quindi è un insieme di magagne è un quadro clinico gravissimo ed è per questo che si concorda con te quando dici che non potremmo che peggiorare adesso poi io spero sempre che accada il miracolo e secondo me la prima scintilla deve arrivare dal mondo della produzione quindi dalle aziende piccole e grandi che siano perché loro dovrebbero capire che il numero di click è importante ma è molto importante anche il valore che si sostiene con la loro sponsorizzazione siccome l'informazione non si vende più non viene pagata dagli utenti non possiamo sopravvivere se non troviamo degli investitori illuminati che capiscano che il valore della lealtà il valore dell'informazione autentica è quello che va sostenuto perché tornando alla domanda che mi avevi fatto prima questo buonismo a reti unificate che sto vedendo in giro non fa il bene del lettore principalmente che è il potenziale cliente non fa il bene di tutti i ristoranti di cui non si parla affatto perché e che meriterebbero invece veramente delle lodi perché magari non hanno alle spalle gli sponsor di cui dicevamo prima gli fici stampi importanti di cui dicevamo prima magari non hanno voglia di regalare cibo a chi scrive di cibo ma non fare anche il bene di quelli che si meriterebbero qualche schiaffo e che magari da questi schiaffi potrebbero creare una morale e migliorare il loro il loro prodotto quindi non fa bene a nessuno assolutamente sì ma infatti io mi domando sempre quando vedo questi i ristoratori condividere con grande entusiasmo delle recensioni che sono 35 righe di complimenti quasi irrealistici cioè sinceramente se scrivessero mai un testo non vedo perché mai dovrebbe succedere e non succederà mai però scrivessero un testo in cui mi leccano il culo per 35 righe io anziché condividerlo mi farei due domande cioè lo troverai molto buffo certo ma loro lo sanno perché arriva quel testo c'è sempre una ragione che loro conoscono benissimo hanno rilevato a Gino Pappetti nella testata XY un panettone gastronomico e due bottiglie di champagne e poi arriva un testo positivo lo sapranno perché oppure sono amici di identità golose Paolo Marchi ecco allora è per quello perché prova a scrivere un testo che distrugge un ristorante che fa parte di quel gruppo di identità golose vediamo chi per primo si indigna ammesso che poi ci sia un ristorante meritevole di insulti cosa che forse non è però diciamo per ipotesi che qualcuno scriva una critica molto pesante su un ristorante che fa parte del giro della Michelin o di quell'altro ipotentato sicuramente primi a indignarsi saranno i giornalisti proprio per il corporativismo di corretà di cui parlavamo prima assolutamente sono guarda non sai quanto sono d'accordo su questa roba che hai detto perché mi è successo tante volte cioè scriviamo un pezzo che non è per forza la stroncatura anche solo un'osservazione su un prodotto di uno chef famoso ma proprio cose che dovrebbero essere all'ordine del giorno che fanno parte della libertà di opinione della libertà di stampa e il giorno dopo escono articoli come si chiamano aiutami con l'espressione non mi viene articoli riparatori si chiamano ah pensavo di merda articoli di merda il giorno dopo sai benissimo di cosa stai parlando sto parlando i pezzi riparatori questi pezzi che dicono ma dal nulla ma neanche ti citano cioè non hanno neanche il buon cuore di dire è uscito un articolo su dissapore che critica fortemente questo chef noi non siamo d'accordo perché questo è lo chef migliore del mondo e nessuno deve permettersi di criticarlo allora almeno ti prendi la tua responsabilità di dire dissapore dice stronzate io cito cito noi perché conosco bene la nostra situazione però lo vedo anche con altre testate cioè non sono sicura che sia successo con te decine di volte ma arci sicura no? succede con chiunque si permetta di fare una critica e il giorno dopo escono questi articoli riparatori che sono imbarazzanti perché manco citano il pezzo che è la causa per cui quell'articolo è stato pubblicato e dicono in maniera del tutto estemporanea quanto è bravo quanto è buono senza un perché dal nulla e ci sono diverse ragioni cioè se vuoi spiegarle tu non lo so sostanzialmente si fa per nascondere un po' il pezzo che è uscito no? per riparare a quella cosa lì ma anche per una forma di come posso chiamarla con un eufemismo insomma però di tutela mafiosa cioè una sorta ti difendo io sei roba mia sei persona mia ora ci penso io e ti difendo capito? cioè funziona anche così perché appunto sono tutti in realtà è tutta una grande marmellata che mette dentro che comprende diciamo macina al suo interno critici sponsor cuochi famosi perché poi i cuochi famosi sono quei cento ma anche meno ma anche meno gli esercizi commerciali invece dedicati alla ristorazione in Italia sono 350.000 quindi si parla sempre dei soliti cento tutti io se fossi uno degli altri 249.000 rotti non sarei tanto felice di questo andazzo anche perché poi il risultato è che se tu non paghi una marchetta o non fai parte di quel gruppo lì non arrivi neanche sui giornali non parleranno di te quindi assolutamente 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 bisogna avere l'ufficio stampa che fa arrivare bisogna avere tutto un seguito cioè a quel punto lì non è più il tuo lavoro non è più fare ristorazione è un altro mestiere no? esatto cioè è totalmente un altro mestiere ma infatti a me piacerebbe anche fare un appello ai ristoratori cioè rendetevi conto di queste cose cioè al di là di chi fa il nostro mestiere no? poi io dico cioè noi dico il nostro mestiere poi io sono una nana no? cioè tu sei un vero critico gastronomico io magari poi fra vent'anni però non dico solo per chi sta da questa parte qua o chi sta dalla parte dei lettori anche i ristoratori dovrebbero rendersi conto cioè condividendo con entusiasmo la metto sul fronte social ma in generale anche in senso ampio questo modus operandi in realtà non fanno il loro bene perché presto o tardi penso che tutti i lettori si renderanno conto che è finto cioè che è tutto molto finto e poi non lo so cosa cioè non fanno bene al settore in generale ecco che non facciano bene al settore in generale sono d'accordo con te che presto o tardi ci si accorga che è tutto finto ho dei dubbi perché tu stessa poco fa dicevi che la generazione dello storytelling preferisce sentirsi dire delle bugie piuttosto che sentirsi dire la verità e allora non lo so come andremo a finire francamente ma siccome io sono anzianissimo me lo direi tu in un sogno dopo la mia morte e mi direi guarda le cose che vengono male hai ragione tu tu quanti anni hai? si può dire l'età no? si si l'età nome e cognome sono autentici quindi sono del 19 settembre giorno in cui si scioglie quasi sempre il sangue di San Gennaro quindi sono napoletano per parte di patrono no no ci tengo alla mia napoletanità nel 1964 6-4 quindi ho 72 anni non so non so fare i conti insomma ma cosa dici? poi noi abbiamo detto perché mi maschero così lo saprà la gente che ci sta guardando ma no spiegalo però penso che se ne siano fatti una ragione alle 35esimo minuto no spiegalo no perché appunto io penso che penso sono sicuro che questo lavoro quello del critico gastronomico si possa fare soltanto se ci si reca nei ristoranti in incognito cioè se io andassi lì con la bandiera del Corriere della Sera con nome e cognome stampati sulla fronte avrei un servizio di favore oppure potrei supporre di averla avuto insomma non sarei sereno nel redigere la mia recensione e probabilmente scriverei qualcosa di alieno rispetto all'esperienza che vivranno i clienti veri in più potrei essere abbordato come spesso accade dallo chef del ristorante e quindi per essere una sorta di rapporto amichevole avrei più difficoltà a giudicarlo con obiettività insomma allora io vado nel ristorante con il mio faccione a viso aperto e un cognome falso ma quando in un'occasione come questa si associa il mio nome e cognome col mio corpaccione sono costretto a calare il sipario sulla mia faccia per poi poter continuare a fare ad essere in incognito non so se mi sono spiegata ma più o meno secondo me ti sei spiegato benissimo io volevo rassicurare i lettori dopo che hai detto questa cosa nel senso che quando io leggo quando io leggo le tue linee guida ai futuri critici gastronomici e tra l'altro lo dico veramente molto sinceramente questo questo manuale scrivere di gusto è veramente molto interessante perché riesce a raccogliere in cosa sono un centinaio di pagine 130 130 pagine un po' tutto quello che è innanzitutto una fotografia di quello che è non solo la critica ma in generale la narrativa gastronomica del nostro paese e poi a fare quello che nessuno fa neanche nell'ordine dei giornalisti cioè dettare delle linee guida deontologiche di comportamento e l'ordine non lo fa perché forse ha altri problemi di cui occuparsi forse perché non si è mai accorto che esiste la nostra categoria non lo so adesso non voglio mettermi contro l'ordine dei giornalisti però secondo me non si accorge neanche che esistiamo francamente perché altrimenti molti paradossi sarebbero verrebbero portati alla luce e analizzati voglio sperare quindi vai un po' a sopperire a quella cosa lì e a a dare una guida a queste alle giovani generazioni che vogliono intraprendere questo mestiere che presumibilmente finendo il manuale giungono alla conclusione che è meglio non farlo però delle linee guida ci sono e in questo senso vorrei rassicurare gli ascoltatori perché in realtà non sei così integralista come puoi sembrare no capisco che insomma bisogna sopravvivere prima di tutto volevo soltanto chiarire una cosa che riguarda l'ordine dei giornalisti cioè l'ordine dei giornalisti secondo me è un'istituzione sacrosanta il problema è che si muove sia su si muove per quanto riguarda diciamo le questioni disciplinari sia su impulso proprio ma soprattutto su in base alle denunce che arrivano e capirei che il nostro piccolo mondo ha un peso specifico talmente inferiore rispetto ad altri centri di potere come la politica oppure anche altri settori in strada della vita sociale per cui la mole di denunce è enorme loro sono pochi hanno armi spuntate quindi non riescono a intervenire perché di fatto andrebbe rifermato l'ordine e potenziato c'è chi suggerisce di eliminarlo ma sarebbe ancora peggio non avremmo nessun tipo di tutela rispetto alle scorrettezze dei nostri colleghi quindi bisognerebbe che avesse delle armi vere per poter sanzionare tutti quelli che calpestano le regole detto questo d'altronde d'altronde chi no 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 stavo dicendo che di contraltare invece chi scrive in questo settore è molto spesso molto facilmente soggetto di ti sei frizzata minacce avvertimenti io ti vedo un po' a scatti un po' frizzata un po' no adesso sei bloccata è una pausa molto bella esteticamente però non ti si sente mi senti? ora ti sento ma ti vedo ferma mi senti ferma? adesso sembri normalizzata ok 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 perfetto scusatemi no volevo dire che di contraltare è vero che l'ordine dei giornalisti non è molto attivo nel nostro settore ma io vedo che forse per la pochezza di articoli critici non appena lo si scrive dall'altra parte cioè da parte di chi è oggetto dei nostri pezzi è molto facile la querela la letterina dell'avvocato almeno io riscontro questa cosa qui e quindi in realtà c'è una una scarsa protezione da parte dell'ordine e dall'altra parte siamo molto soggetti a insomma minaccine sì beh certo i ristoratori o le aziende si reagiscono in quel modo minacciando le querele ma quello è lo sport nazionale io continuo a sentire gente che minaccia querele nei confronti di chiunque poi spesso non fanno seguito i fatti per fortuna io non io ho avuto molti minacce di querele ma per fortuna nessuna querela vera quindi vi pregherei di incorrelarmi e però vorrei mantenere questo record di zero querele però certo se ci fosse una regolamentazione se le querele diciamo temerarie venissero a loro volta sanzionate insomma è tutto un problema molto più grosso di noi mi rendo conto che noi avremmo bisogno di una tutela più attenta dal punto di vista legale perché spesso siamo costretti a non dire la verità ma questo riguarda molto di più altri settori del giornalismo che sono molto più critici penso appunto alla politica ma anche a chi si occupa di mafia che peraltro è un tema che riguarda anche noi e che nessuno tratta beh ti credo che nessuno lo tratta in questo come era la domanda di prima prima che ti riferizzassi no nulla volevo solo fare questo questo inciso ma anche perché se nessuno se nessuno fa mai pezzi critici poi per forza che i pochi pezzi critici che ci sono entrano sono subito oggetto di è per forza cioè dovrebbe essere all'ordine del giorno cioè non può essere normale che un ristoratore criticato o un'azienda su cui si faccia un'osservazione frutto anche solo di un'opinione si senta libera di minacciare di querela cioè questa non può essere la normalità no certo che no però c'è chi in questa fase per esempio di crisi dei ristoranti per le ragioni che sappiamo chi professa e anzi istiga diciamo i critici a non svolgere il loro lavoro a usare una particolare indulgenza nei confronti dei ristoranti insomma io ho letto dei pezzi per esempio sull'inserto gastronomico di che si chiama gastronomica del sito dell'inchiesta dell'inchiesta dei fondi del direttore Prandoni che fanno accaponare la pelle perché Costei sostiene che non si debba fare critica gastronomica come se questa tutela dei ristoratori come se i lettori non fossero da considerare affatto ma anche i soldi di ristoranti anche chi va nei ristoranti ha pochi soldi da spendere e quindi ha diritto a una totale lealtà da parte nostra quindi insomma si spendono un sacco di frottole per nascondere o insipienza oppure altri altri progetti insomma che non hanno a che fare però con la con l'informazione io ripeto noi facciamo informazione uno può essere giornalista professionista o essere scritto all'albo oppure anche no ma nel momento in cui fa informazione è vincolato a delle regole e le regole non è che limitano la nostra libertà d'azione anzi ci aiutano appunto ci garantiscono quella tutela di cui parlavi prima bisogna rispettare le regole dell'informazione che poi sono uguali per tutti non soltanto per i giornalisti ma anche per tutti quelli che scrivono sui social e non si rendono conto molto spesso che stanno svolgendo una funzione pubblica di comunicazione pubblica esattamente come la nostra sì tra l'altro le regole penso che ci permetterebbero anche di autogiustificarci un po' di meno perché c'è tanto tu vabbè dedichi un capitolo molto interessante anche agli influencer che stanno spuntando anche nei nostri commenti i commenti sul food influencer queste figure un po' che sono sempre un po' in un limbo deontologico come è normale che sia come succede in tutti gli ambiti però ecco diciamo che chi si trova un po' in un limbo chi rappresenta un pochino un imbrido spesso tende un po' ad autogiustificarsi cioè sì io faccio da faccio questo lavoro come ha detto stampa però poi faccio questo quindi va bene faccio questo però cioè ho cenato gratis lì però però non è una recensione ho fatto questo però è sempre una forma di no di autogiustificazione continua che che secondo me in parte certe volte è anche comprensibile però noi dobbiamo metterci nei panni dei lettori i lettori che cosa ne sanno degli affari nostri cioè noi dobbiamo noi dobbiamo comportarci con onestà e seguire delle delle regole che siano condivisibili da tutti che siano socialmente condivise questo dovrebbe essere questo perché perché si è condivisa solo da te e da mamma il lettore che ne sa infatti guarda sono doppiamente contento che tu dica queste cose intanto perché hai un ruolo dirigenziale che tu lo vogliono ormai sei in una posizione apicale e poi perché sei giovane mentre io quando parlo con i giovani e spesso mi capita anche in lezioni che che tengo insaputa dell'università mi introduco così allestisco delle finte lezioni lì per lì no scherzo insomma vengo invitato mi ritrovo davanti a giovani che non capiscono questo concetto cioè che per esempio non comprendono che cos'è la pubblicità e perché va circostanziata e chiusa dentro un recinto con un avvertimento che dica questa che segue è pubblicità loro non se ne rendono conto e forse perché chi ha la mia età non gliel'ha saputo spiegare perché noi ci comportiamo allo stesso modo se non peggio io ho fior di colleghi che fanno pubblicità surrettizia mascherata quasi quotidianamente quindi è chiaro che se noi diamo il cattivo esempio loro impareranno le cattive maniere no dimmi no sai qual è il problema poi più grosso secondo me chi fa l'influencer tu cura diciamo di solito segue le regole e la policy che gli viene imposta dai social stessi perché per esempio Instagram ha delle regole molto ferie che andrebbero seguite non tutti lo fanno però molti si il problema è quando si intersecano due ruoli che sono incompatibili cioè l'informatore chiamiamolo così perché appunto potrebbe non essere un giornalista e l'influencer se uno svolge questi due ruoli contemporaneamente e lì avviene va tutto in tilta è un cortocircuito perché il lettore non sa più quando stai facendo pubblicità e quando stai dicendo la verità quando stai dicendo una verità che ti conviene quando ne stai dicendo un'altra stai dicendo una bugia pure semplice e non so recentemente per esempio tanto per non far nomi Caterina Zanzi di Conosco Imposto ha criticato un certo ristorante di Milano non scomposto un blog ma è anche un blog di successo di grande successo no? di grande successo esatto su Milano chiaramente su Milano però ogni post fa diverse migliaia di like e lei continua a fare critica gastronomica nel contempo però fa anche diciamo partnership credo che si dica con un eufomio l'altro giorno ha criticato un ristorante giapponese l'avrà fatto anche in buonissima fede però ci viene spontanea una serie ci vengono spontanea molte domande c'è una serie di domande che bussano la porta di questa recensione negativa cioè avrebbe scritto le stesse cose se le avessero proposto una partnership riserva lo stesso trattamento a quelli che ieri l'hanno magari pagato per una partnership e tutti quelli che non si fanno vivi possono rischiare di vedersi il fantasma di Caterina Zanzi che va lì e li massacra allora per fare questo lavoro bisogna essere puri per scagliare la pietra bisogna avere una purezza professionale professionale che va preservata sempre non si può giocare su due tavoli insomma perché anche se c'è buona fede e nel caso della Zanzi non voglio credere che non ci sia però si inquina la propria credibilità e tu ti riferisci a partnership con i ristoranti con i ristoranti certo con le aziende perché è chiaro che se tu fai queste partnership che poi sono appunto pubblicità pagate a quel punto quando non scrivi che c'è la partnership puoi essere molto severo nel tuo giudizio no perché gli altri cosa hanno fatto ti hanno pagato quindi insomma noi dobbiamo essere pagati dai nostri lettori in maniera più o meno indiretta più o meno diretta ma non dobbiamo avere altri affari con quelli che dobbiamo giudicare insomma se noi facciamo e quindi non è che possiamo usare due pesi due misure a secondo che arrivi o meno il pagamento perché a quel punto va tutto in cortocircuito sì l'ideale come scrivi anche tu nel manuale ma in generale una cosa che ormai è acclarata sarebbe avere degli sponsor che siano o extra settore come si dice oppure comunque degli sponsor non disturbanti è assurdo pensare che uno sponsor possa essere un ristorante l'ideale sarebbe che tutti avessimo le assicurazioni le banche l'American Express non lo so automobili sto pensando a settori che possono non disturbare il lavoro dei critici gastronomici o comunque in maniera molto 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 lontana ecco non come può essere spesso capita appunto un'azienda produttrice di materie prime per ristoranti che poi però chiede che vengano recensiti in maniera positiva i ristoranti insomma sappiamo come come funziona certo dovrebbe essere anche non so aziende anche alimentari ma insomma diciamo consorzi qualcosa che abbia un carattere istituzionale potrebbe essere ben accetto il problema è quando ci sono dei singoli marchi oppure delle holding che premono e quindi si fanno 200 pezzi sul tal caffè perché uno degli sponsor è quel caffè lì esatto esatto e comunque allora noi ci dobbiamo ci dobbiamo lasciare perché il tempo è volato rapidissimamente e parlare con te è sempre bellissimo perché perché mi dai un sacco un sacco di spunti da rossisci la cosa ti preoccupa parecchio immagino va bene allora ti volevo chiedere un'ultima cosa ma rapidissimamente cosa ne pensi delle guide che sono uscite tra novembre 2020 e marzo 2021 e che stanno tuttora uscendo ai ristoranti parlo di guide cartace che vantano di avere censito un sacco di ristoranti io ragazzi io vi giuro che adoro mangiare fuori e durante tutti i periodi di apertura sono andate a mangiare fuori tantissimo o sarò riuscita a provarne 25 30 ma come fate io non lo so io trovo che siano coerenti cioè fanno fiction da anni ormai non fanno non sono più delle guide ma sono dei libri di narrativa fantasy e quindi continuano su quel solco è chiaro che la Michelin che è la sotto questo punto di vista la più autorevole quindi anche quella che ha commesso il peccato più grave ha recensito ristoranti che durante l'anno non hanno aperto mai o hanno aperto una manciata di giorni magari hanno avuto la stella Michelin questa è una presa in giro ma siccome ci prendono in giro da moltissimi anni non trovo nulla di diverso dal solito diciamo che sono venuti un pochino più allo scoperto ma tanto tu hai letto a parte di sapore qualcuno che dicesse ah ma che scandalo no quindi no no in effetti no però e quindi ce le meritiamo come diceva Nanni Mavetti si è vero va bene allora io saluto Valerio grazie di essere stato con noi e dobbiamo dare la linea Movie Player che fra sei minuti sarà in onda con la nostra Valentina Riete grazie a tutti